La protezione civile regionale ha diramato per la giornata odierna un allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia. Secondo quando è riportato nel bollettino l'anticiclone nordafricano continuerà a interessare la penisola con condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutto il paese. Le temperature già elevate sono previste in un ulteriore aumento raggiungendo valori molto elevati soprattutto al centro-sud e in particolare in Sicilia. Per la giornata di domani pertanto persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi in Sicilia così come il rischio e ondate di calore che interesserà in particolare i settori occidentali e meridionali dell'isola.